Prosegue l'apertura di nuovi cantieri in provincia di Chieti per strutture sportive. Vasto prima, lanciano poi. In questi giorni sono stati avviati i lavori della nuova palestra polivalente della città che sorgerà nell'area adiacente l'Istituto Professionale De Giorgio in via Barrella. L'impresa ha delimitato l'area di cantiere e avviato lo scavo per livellare il terreno su cui saranno realizzate le fondazioni della struttura. L'intervento progettato dalla provincia è stato finanziato dalla missione 4 del PNRR con 2.402.626 euro. Campo regolamentare per la pallacanestro e la pallavolo, tribune, servizi genici per atleti e spettatori e altre aree funzionali allo sport e all'aggregazione sociale. Questa è la nuova palestra di Lanciano che sorgerà su una superficie interna pari a 911 metri quadrati. Lo spazio riservato alle tribune, comprensivo di accessi, avrà dimensioni di circa 35 metri di lunghezza e 4,85 di larghezza. Sarà in grado di ospitare fino a 100 spettatori. Tempi di realizzazione dell'opera? 600 giorni lavorativi. La nuova palestra sarà quindi pronta entro il 2026.